Quarta corsa, premio Gator Bowl, Miglio per i tre anni, sono undici al via, prima fila per una di maggio, Gennaro Casillo, Rucogliana, Davide Di Stefano, Whisky Sun, Antonio Di Nardo, Wilgrim, Roberto Vecchione, Urawa Gia, Frimesh Midra, U2 degli Olivi, Romeo Gallucci, un jet d'occhio Dario Battistini, seconda fila Ungaretti, Giampaolo Minucci, ultimato Mindal, René Legati, unico jet Giuseppe Pistone, ultra di Casei, Antonio Improda, c'è stato l'errore per U2 degli Olivi e anche per unico jet, e Wilgrim è andato facilmente a condurre, mentre sbaglia anche Urucogliana guida nettamente Wilgrim nei confronti di Whisky Sun, la corsa ha preso subito due dei potenziali protagonisti, hanno sbagliato sia Urucogliana che U2 degli Olivi e Wilgrim guida nettamente, può anche ora graduare dopo il primo quarto comunque in 29 scarso, seconda posizione per Whisky Sun nei confronti di una di maggio che sposta anticipando Urawa Gia che però aggira l'avversaria e punta in avanti, all'esterno anche ultra di Casei che precede Ungaretti, sempre in vantaggio Wilgrim su Whisky Sun, all'esterno c'è Urawa Gia poi è tornata in corda, una di maggio che viene avvicinata da ultra di Casei, quindi Ungaretti, un Jet Doc e ancora Ultimatum Mindal, Wilgrim che guida ancora liberamente imponendo andatura piuttosto sollecita, il primo giro in 1.15 appena abbondante per l'allievo di Olga Rellert e Colin Salchi Roberto Vecchione che è seguito sempre da Whisky Sun che ha la destra libera e temporeggia, ma Wilgrim si mantiene in vantaggio, i 1.200 sono in 1.29.4, Wilgrim allungra su Whisky Sun, sposta all'esterno una di maggio dopo che ha sbagliato Urawa Gia, la retta d'arrivo vede Wilgrim in vantaggio ma dalla sua scia è pronta a spostare Whisky Sun che lo aggredisce, poi c'è una di maggio davanti a ultra di Casei, lo scatto di Whisky Sun nei confronti di Wilgrim che si difende, poi una di maggio, Wilgrim alla corda, Whisky Sun all'esterno, poi una di maggio nel finale, Wilgrim ben sostenuto da Roberto Vecchione, sfugge chiaramente a Whisky Sun, una di maggio e terza, come si erano messi praticamente dal via lungo la corda, 4-3-1 con il parziale finale in decelerazione, sul mio cronometro 2-1 per il vincitore, media dunque di 1-15-6, si è andati più forti all'inizio che alla fine, Wilgrim... Grazie a tutti! Grazie a tutti!